Buongiorno ragazzi, cosa facciamo stamattina? Cosa preferite stamattina? Allora, tutto in silenzio, allora faccio io stamattina, mi colto io qualche cosa, facciamo una bella focaccia, davvero un po' d'acqua, qualche mezzo litro di vino e poi questi telefonini, è cortesia questi telefonini in borsa, buttatela via e datela a me e mettete nel ragù, ma qua di pizza, non mi capisci, perché abbiamo visto proprio, scusate, sei pizzette, e da bere? Acqua, acqua, acqua abbondante, vai, acqua, vedete pure questi telefonini per cortesia, a tavola, a tavola, i telefonini, va bene, arrivederci. Ecco l'acqua. Ragazzi le pizze, ragazzi, 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 ragazzi le pizze. Ragazzi, 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 ragazzi Grazie a tutti. Ragazzi, io e Michele ce l'andiamo. Va bene, ciao. Ragazzi, andiamo a fare un giro con la macchina. Ok, andiamo. No, 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 no. No, 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 no.